Salve cari amici benvenuti e bentornati al mio pazzissimo anale Oggi amici un nuovo video solo per voi Dove vi mostro questa bellissima tazza dei miei 4 cartoni preferiti Che mi guardavo quando ero piccolo La mia infanzia praticamente Il primo sarebbe mucca e pollo E' impossibile che non lo conoscete Molto tempo prima su bengolo facevano ogni sera Anche la mattina Ora non lo fanno più perchè è vecchio Però io vi consiglio su internet o su youtube Di riguardarle, è troppo bello E poi avrà serie fatta anche Disegnata esclusivamente con le mani E senza nessun ritocco Poi altro cartone riguardante questa tazza E' il labbratore di Dexter Questo è un altro cartone imperdibile Veramente bello Che vi consiglio di vedere Se non l'avete visto O di riguardarlo se l'avete visto all'infanzia vi è piaciuto Nell'infanzia vi è piaciuto Ovviamente come per mucca e pollo lo trovate su youtube Oppure su internet Poi c'è i giorni bravo Nessuna parola su questo cartone Perfetto Sempre stessa cosa di Dexter e di mucca e pollo Lo trovate su youtube Oppure su qualche sito Da guardare in streaming Veramente bello come cartone E' uno dei miei cartoni preferiti E poi c'è Leoni il cane fifone Un cartone bellissimo Su un cane che si spaventa ogni cosa che vede Però veramente da guardare Se non vi impressionate Perché ci sono alcune scene Un po' inquietanti Però non ci fate caso E questo è il cartone Leoni il cane fifone Con la sua immagine qua Di ritratto Alla fine Da vedere streaming Questa tazza amici la trovate Da tutto un euro Quasi di tutto un euro andate Per ora Ci sono molte ma molte coppie Di queste tazze Ma questa qui Tazza comprato io E' una delle prime coppie Spero che la troverete Va bene amici Spero che questo video vi sia piaciuto Nel caso lasciate like E scrivetevi al mio bellissimo anale In mio tiktok E il mio facebook è Enzo Rizzo Gamer Dove ZX Enzo Rizzo E poi vi trovate anche Su tiktok come Capitazubasa Itapis4 E detto questo Noi ci salutiamo E ci becchiamo Ad un prossimo video